benvenuti a questa nuova puntata di cultura muzza con luigina giliberti una brevissima pillola sul caso sarri mancini qual è la tua posizione sulla cultura di genere la cultura di genere per esempio la grande tradizione del romanzo omosessuale americano sarà un romanzo sugli omosessuali americani giustamente è una tradizione ok ma questa è una tautologia una tautologia è una tautologia mi sai citare qualche autore o qualche titolo del romanzo esatto della tradizione un titolo magari se tu mi aiuti qualcosina una letterina ok cadiamo più in basso possibile che squadra allena mancini nazionale alleno nazionale di che stato europeo e qual è la capitale londra benissimo perfetto